Dopo l'attività di domenica con la Fonderlein, Giorgia Meloni ha ripetuto all'ONU quello che è un messaggio che deve essere chiaro all'Europa e al mondo che questa immigrazione va controllata, che l'Italia da sola non può fare fronte a una spinta che viene dall'Africa e che è enorme e conseguentemente che occorre cooperare tutti affinché si possa aiutare quelle popolazioni nei paesi d'origine anziché lasciarle nelle mani di queste carrette della morte che sono evidentemente frutto di colossali guadagni per mafie e persone che non hanno alcun rispetto della vita umana. C'è una polemica sul fatto che Giorgia Meloni non ha partecipato alla cena con Biden, è andato in pizzeria, che cosa dice? Probabilmente voleva un menù più italiano. La polemica è invece quella interna, CPR che non tutti i presidenti di regione vogliono. I CPR diventano indispensabili, diventano indispensabili perché ovviamente se tu vuoi ospitare per 18 mesi anziché per 12 le persone che sono arrivate senza alcuna possibilità di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato evidentemente ci vogliono più strutture. Oltretutto penso che essendo stato demandato questo compito al Ministero della Difesa verranno individuate strutture della difesa. Grazie.